È scomparso all'età di 54 anni in circostanze ancora misteriose James Hellwig, noto come The Ultimate Warrior, uno dei miti del wrestling mondiale. Come tutti i wrestler più amati e seguiti aveva i suoi riti e i suoi trucchi del mestiere. Entrava in scena correndo sulle note della canzone Unstable di Jim Johnston e dava una vigorosa scrollata alle corde del ring, con i capelli biondi cotonati e truccato pesantemente sul volto. Warrior aveva iniziato la sua carriera negli anni Ottanta sfidando campioni del calibro di Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage e The Undertaker e Andrej Dejant. Dopo una lunga e onorata carriera, da poco la federazione della WWE lo aveva inserito nella sua prestigiosa Hall of Fame, Hellwig si riterò dal ring nel 2008 dedicandosi a conferenze e fumetti che raccontavano le sue storie. Della sua morte non si conoscono ancora i dettagli, si sa soltanto che il corpo è stato trovato in Arizona.